Quando lui ti prende in giro, cosa fare? Allora, qual è il miglior comportamento quando un uomo ti prende in giro? Beh, in questi casi, intanto mutatis mutandis varrebbe anche da una donna verso un uomo, perché per carità le cose si possono vedere sempre su due fronti. Quindi, allora, beh, intanto devi mettere l'amore per te stessa davanti a tutto e davanti a tutti. Un uomo che fa giochi mentali, che manipola, che si prende in gioco degli altri, delle donne, o in generale delle persone, o una donna che fa questo, va tenuta a distanza, allontanata, lasciata. Non importa che ti piace sessualmente, che non ti piace sessualmente, perché, diciamo, stare con personaggi di questo genere. Si vive una volta sola, frequentiamo persone che siano sane, positive, simpatiche, con uno stile di vita allineato al nostro. Ecco, quindi questa è la cosa fondamentale. Certo, se lui ti colpevolizza, tu respingi ogni accusa, ovviamente, perché rimanda all'amittente. Se lui ti colpevolizza, ti va a avere il senso di colpa scarichi addosso il doppio delle colpe. Questo è... ricalca un po' il suo comportamento, ma non prende in considerazione, diciamo, delle situazioni che magari potrebbe fare. Potrebbe fare la vittima, ad esempio, potrebbe mettere in atto delle cose particolari. Quindi non vanno presi in considerazione. Non devi dargli corda e soprattutto devi dare amore a te stessa, perché è l'inner game, il gioco interno, quello che ti permette di uscire vincente da una situazione di questo genere. Cioè non prenderlo in considerazione, cioè trattarlo come se fosse una merda fondamentalmente. Questo è il punto fondamentale, la cosa fondamentale. Se tu non riesci a fare questo, diciamo che ne pagherai poi in qualche modo le conseguenze. Diventerà tutto difficile e tutto complicato. Invece prendersi il tempo e imparare a gestire le situazioni è tassativamente, necessariamente la cosa migliore, la cosa più importante da fare. Quando la persona ti prende in giro, perché necessariamente ti deve allontanare. Iscriviti sul canale YouTube, ovviamente Massimo Tramasco, ma anche il nuovissimo canale YouTube Esoterismo e spiritualità con Massimo Tramasco. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok. E ti do appuntamento al prossimo video.